Vedete i pomodori come si stanno sbollentando? Tra poco li possiamo cacciare, vedete? Quindi facciamo di elotti, facciamo più o meno 4 volte più o meno una cassetta di pomodori. Sono 7 casse, quindi dobbiamo distribuire più o meno 4-5 elotti. E' importante questa sbollentatura sia per ammazzare qualche germe, come si sa mai, è importante. Poi nella pastorizzazione questo viene relativamente forte. La pastorizzazione poi dura 15 minuti, in questo caso c'è una bella sbollentata di grande misura. E poi per rimuovere l'acqua in eccesso e per riuscire poi a ricavare la polpa è meglio la più facile, in quanto è più semplice può utilizzare la macchina per farla passata.